Il Centro Ortopedico Orto Center di Sassari presenta domani alle 15.30 dal Ghero l'esoscheletro di Phoenix, un prodotto ad alta tecnologia italiana creata dalla MES di Roma, distribuito in esclusiva per la regione Sardegna dal centro sassarese, realizzato per i soggetti affetti da gravi deficit in movimento, che hanno perso l'uso delle gambe, sia a causa di eventi traumatici, sia per malattie degenerative e neoplasie, consentendo di ottenere una stazione eretta e di potersi nuovamente muovere liberamente. Il nome fa riferimento all'araba finice, che una volta morta risorge dalle sue ceneri. Un messaggio di speranza per tutti i disabili, un dispositivo innovativo, costruito in fibra di carbonio, maneggevole e flessibile, semplice ad indossare, un apparecchio rivoluzionario. L'ingresso gratuito, previsto l'arrivo dell'assessore alla sanità regionale Mario Nieddu, oltre a diversi consiglieri regionali. Un incontro riservato in particolare ai medici fisiatri, studi fisioterapici, ortopedici, associazioni di paratetraplegici, gruppi sportivi, che si occupano di disabilità, parenti e amici.